diego maranghi e leonardo piccinini benvenuti all'almaracco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo la tribuna politica di questa sera ci offre un'importante occasione quella di discutere pacatamente affidandoci agli argomenti e non agli slogan gli scottanti problemi dei rapporti tra i partiti operai e di sinistra e in particolar modo tra il partito comunista e il partito socialista italiana è nostra profonda convinzione che i progressi politici e sociali che si sono realizzati in italia in questi 20 anni sono dovuti per non piccola parte alla lotta e all'unità di comunisti e socialisti la nostra unità è stata decisiva per conquistare la repubblica per avviare la ricostruzione del paese e nei lunghi anni in cui siamo stati insieme all'opposizione per difendere la pace e la democrazia per far avvenzare la causa del progresso economico e sociale almanacco di bellezza 22 settembre leonardo piccinini piero maranghi il protagonista di questo almanacco è l'uomo che henry kissinger ha definito il mio comunista preferito peccato che nel 75 gli aveva fatto negare il visto per entrare negli stati uniti proprio per il fatto di essere il membro di un partito comunista quello italiano siamo oggi a parlare di un grande personaggio della storia repubblicana due volte il primo presidente della repubblica mille altre cose stiamo parlando oggi di giorgio napolitano che si è spento un anno fa a roma all'età di 98 anni giorgio napolitano era nato a napoli stato un grande napoletano napolitano il 29 giugno del 25 da giovanni napolitano avvocato poeta seguace del pensiero liberale e da carolina bobbio una napoletana di origini come dice il cognome piemontesi lui nel 1941 studia all'umberto primo di napoli e sono quelli gli anni in cui si sviluppa una una passione per la letteratura e per il teatro che poi lui asseconderà anche dopo l'iscrizione alla facoltà di giurisprudenza a napoli ancora e in quel momento lui entra nel gruppo universitario fascista collabora con il 9 maggio crea questo settimanale dove appunto tiene una rubrica di critica teatrale e si crea un gruppo di amici i nomi sono bellissimi perché con lui compongono il gruppo denominato i ragazzi di via chiaia dei grandi protagonisti della cultura francesco rosi giuseppe patroni griffi raffaele la capria e secondo lo stesso napolitano non deve sorprendere la presenza di tanti intellettuali di sinistra nei guf fascisti e lui diceva un vero e proprio vivaio di energie intellettuali antifasciste mascherato e fino a un certo punto nel 1944 a napoli succede una cosa molto importante perché perché il compagno ercole ercoli che è togliati il migliore il migliore è arrivato a napoli perché a napoli si era preparato il suo rientro appunto e lui i primi di aprile inizia a nascondersi a napoli con questo pseudonimo appunto il compagno ercoli perché sta preparando la famosa svolta di salerno cioè quel momento in cui lui dirà oggi il tema non è monarchia o repubblica oggi bisogna fare un governo e ci entro pure io e lo faccio con il re e badoglio l'anno dopo nel 1945 napolitano aderisce ufficialmente al partito comunista e diventa segretario federale a napoli e caserta è la laurea in giurisprudenza che arriva nel 47 con una tesi di economia politica sul mancato sviluppo industriale del mezzogiorno all'indomani dell'unità d'italia e vediamo ora un'intervista di fabio fazio a napolitano che ricorda quei momenti il ricordo rimane molto forte ed è soprattutto la commozione straordinaria per le città del nord che si liberavano dalla oppressione tedesca si liberavano e immediatamente mettevano in primo piano quelli che erano stati i costruttori della resistenza della guerra partigiana del movimento dei comitati di liberazione basti pensare al comizio di sandro pertini a milano ea tanti altri che sono nomi da imparare se non si conoscono raffaele cadorna ferruccio parri giorgio amendola luigi longo e tanti altri che veramente sono stati i pionieri della nostra democrazia lui entra in parlamento nel 1953 poi sarà sempre rieletto tranne nella quarta legislatura quella tra il 63 e 68 sappiamo della sua scalata all'interno della gerarchia del partito diventa responsabile prima della commissione meridionale poi entra nel comitato centrale e sappiamo della sua ferma e imbarazzante adesione alla soppressione dei moti ungheresi da parte dell'unione sovietica c'è una dichiarazione che ancora scotta cioè quella dell'intervento sovietico che si giustifica nel quadro dell'aggravata situazione internazionale non già a difendere solo gli interessi militari e strategici dell'unione sovietica ma salvare la pace nel mondo nel 59 sposa con rito civile in campi d'olio che è una tradizione per i membri del partito comunista l'avvocato clio maria bittoni che conosce alla facoltà di giurisprudenza dell'università di napoli e ritrova a roma dove si occupa di diritto dei lavori in uno studio legale e anche lei una donna di sinistra che è scomparsa qualche giorno fa avrebbe compiuto 90 anni era nata nel 34 nelle marche perché il padre era un antifascista che era stato mandato al confino al confino senti muore togliatti e nel confronto interno seguito appunto alla morte del migliore lui è uno degli esponenti moderati di maggior peso è legato a giorgio amendola ai valori del socialismo democratico e la corrente di destra in modo anche se vogliamo un po dispregiativo viene chiamata la corrente migliorista qui lui sarebbe stato con altri personaggi importanti per l'inari a gerardo chiaro monte e penso allo splendido emanuele macaluso il leader era una corrente minoritaria veniva chiamata la destra del partito comunista con un atteggiamento moderato più filo occidentale certamente nel corso della prima metà degli anni settanta il suo contributo politico si concentra sui rapporti internazionali del partito comunista italiano quindi ci sono conferenze in inghilterra in germania il confronto costante con la socialdemocrazia europea e certamente anche un allontanamento sempre più netto dall'unione sovietica e dalla sua politica anche se ancora anni 1974 50 anni fa napolitano fu intransigente fino all'eccesso al midollo sì nel rifiutare qualsiasi dialogo ad esempio con il dissidente solghenitsin di cui definì aberranti i giudizi politici espressi tutto è da inquadrare in quel momento storico tuttavia tuttavia può analizzare anche con una certa lucidità oggi questa nel 78 è il primo esponente del partito comunista italiano a ottenere un visto d'ingresso negli stati uniti è incredibile comunque che bisognasse aspettare il 78 anche negli stati uniti la presenta di gimme carte sì la cosa è lui tiene una serie di conferenze ad harvard perché è diventato responsabile della politica economica del partito rapporto con enrico berlinguer un rapporto di alti e bassi perché con lui condivide il periodo della solidarietà nazionale ma negli anni 80 critica il ritorno a posizioni rigide ricordiamo la questione morale la riaffermazione della diversità del comunismo e alla morte di berlinguer non si sceglie napolitano si sceglie un uomo più diciamo di tradizione più massimalista anche lo vedevi alessandro nata che a me piaceva non so che aveva qualcosa che era cugino del nata premio nobel tra l'altro che dura solo il tempo perché il partito poi si renda conto che il cambiamento inevitabile e sappiamo la bolognina 1991 partito democratico della sinistra che napolitano tra l'altro avrebbe appoggiato fortemente nel 92 viene nominato presidente della camera in sostituzione di oscar luigi scalfaro che sta lì per un attimo dopo la lunga esperienza di di nilde jotti perché scalfaro viene eletto presidente della repubblica e quindi lui lo sostituisce siamo in piena tangentopoli anche l'elezione di scalfaro fu in qualche modo condizionata dagli eventi tragici palermo e milano palermo milano bravissimo nel periodo di tangentopoli napolitano si distingue da una parte per la protezione delle garanzie istituzionali cioè lui a un certo punto quando arriva la guardia di finanza vieta l'accesso a montecitorio perché il pool di mani pulite aveva mandato la guardia di finanza perché volevano prendere visione dei bilanci dei partiti che peraltro si potevano trovare in altro modo era proprio uno schiaffo al parlamento però di contro quindi in quel momento lui è fermo e blocca questa cosa però poco dopo c'è quell'episodio in cui il parlamento non dà l'autorizzazione a procedere contro Bettino Craxi escono i cinque membri di sinistra che erano stati nominati nel governo che stava nascendo ricordo spaventa Rutelli e lui decide di cambiare il regolamento della camera mettendo il voto palese per evitare che altri fossero in qualche modo salvati dalla segretezza del voto e per questa scelta molti lo hanno criticato 96 altro record nel senso che è il primo ex comunista a essere nominato alla carica di ministro dell'interno è sua la legge turco-napolitano che istituisce i centri di permanenza temporanea per gli immigrati clandestini e esattamente dieci anni dopo quindi nel 2006 succede a Carlo Azzeglio Ciampi come presidente della Repubblica Italiana 2009 in occasione del discorso per il centenario della nascita di Norberto Bobbio Napolitano riassume così la sua parabola politica una storia non rimasta uguale al punto di partenza ma passata attraverso decisive evoluzioni della realtà internazionale e nazionale e attraverso personali profonde dichiarate revisioni da quel contesto mi sono via via distaccato quanto più ero chiamato ad assumere ruoli non di parte a farmi carico dei problemi delle istituzioni che regolano la nostra vita democratica è un bel principio poi uno poi decide se viene applicato o no però come principio lo trovo giusto cioè quando tu vi assumi una carica rappresenti tutti sì giustissimo bisogna dirlo a qualcuno vabbè senti Leonardo Napolitano è stato un presidente maiuscolo quasi un monarca è vero a partire dalle dicerie da tutti i pettegolezzi è stato molto è stato anche molto criticato per questo certo però ricordiamoci che in quel momento terribile 2013 in cui ci sono i 100 franchitiratori non si trovava controprodi ah sì sì sono venuti tutti giù come mirini lui accetta tra l'altro accetta e prende molti più voti cioè 195 in più di quelli che aveva ottenuto nel 2006 il secondo mandato e poi siccome questa si chiama classica questa tv non ci dimentichiamo il profondissimo amore per la cultura e per la musica e per il teatro musicale di Giorgio Napolitano è stato il primo non l'ultimo presidente eletto per due mandati consecutivi perché poi abbiamo avuto anche Mattarella che credo starà in carica per tutti i sette anni sì lo auguriamo e ce lo auguriamo e non abitava al Quirinale a differenza di Mattarella che abita al Quirinale tu ci abiteresti al Quirinale o no? volentieri sì senti ricordiamolo in occasione della Camera Ardente 24-25 settembre a Palazzo Madara lui riesce a raggiungere un nuovo primato perché per rendergli omaggio Papa Francesco diventa il primo pontefice della storia a varcare la soglia del Senato italiano e l'hai detto mentre in Quirinale i papi ci andavano prima e ci sono andati dopo anche dopo cogliamo l'occasione per porgere le condoglianze ai parenti della vedova Clio Maria Bittoni che è mancata pochi giorni fa il 10 settembre e abbiamo un ultimo contributo per ricordare il presidente Giorgio Napolitano I don't need to say how deeply touched I am by the generous appreciation we just heard of my long public service in the interest of Italy of our reliance of our common cause I am grateful to President Obama for inviting me to pay a farewell visit to the White House and for giving me the opportunity of an exchange of ideas before I conclude my presidential mandate We had great conversations He spoke to me of his country with a kind of passion He was born on 3 octobre 1886 at the chapel d'Angilon, a small town of the canton du Cher Ma c'est surtout d'Epineuil-le-Fleuriel, un plus petit village encore, situé à l'autre extrémité du département, où ses parents avaient été longtemps instituteurs et où il avait passé toute sa première enfance, qu'il me faisait des descriptions enthousiastes et presque amoureuses Je reconstituais sa vie de petit paysan dans cette campagne sans pittoresque, lente, pure et copieuse, dont les aspects s'étaient comme incorporés à son âme Je me rendais compte de ce qu'avait été cette enfance alimentée par la précieuse ignorance de tout autre paysage au monde que celui qu'on pouvait découvrir des connaissances Leonardo, le 22 septembre 1914 muore giovanissimo, 28 anni Lo scrittore francese Alain Fournier è una di quelle giovani anime che la grande guerra non ha avuto la pietà di risparmiare quante, quante, quante Si spegne con pubblicato un solo grande romanzo di ispirazione autobiografica che dipinge la stagione dolce e insieme crudele dell'adolescenza Ci lascia così orfani di conoscere le pagine di altre stagioni della vita di un Alain Fournier che avrebbe potuto ancora scrivere tanto Certo, e lo pseudonimo Alain Fournier lui si chiamava Henri Alain Fournier Alain suonava meglio, pensa Alain Delon Alain Delon, no Alain Delon, Alain Delon Era nato il 3 ottobre del 1886 a La Chapelle d'Angillon, un paesino della Loire A nord di Bourges Senti, i genitori facevano gli insegnanti e probabilmente questa è stata la ragione che ha fatto sbocciare il suo grande e profondo amore per la letteratura La sua è un'infanzia piuttosto spensierata, come la campagna in buone condizioni è capace di offrire E lui fino al 1898 studia con buon profitto la scuola dove insegnava suo padre Siamo a Epineuil-le-Floriel Da lì si sposta poi a Parigi per frequentare il liceo Voltaire E in questi anni il giovane Henri, allora ancora Alain, matura sempre di più l'idea di entrare alla scuola navale E da quella scuola poi dirigersi all'école navale e quindi si trasferisce a Brest, come la Chapelle de Brest Non si conoscono le ragioni per cui Presto abbandona questa idea e lascia anche questa scuola E iniziano queste peregrinazioni scolastiche Sappiamo Bourges dove ottiene il baccaloreato e poi va vicino a Parigi Al liceo Lacanale di Shaw Lo studente itinerante Alain Fournier è determinato ad un certo punto però a entrare in una famosissima scuola Cioè l'école normale superiore E si impegna fino in fondo per prepararsi come si conviene al durissimo esame di ammissione Ci prova ben due volte però senza successo E sono gli anni in cui si lega la figura di Jacques Rivière Che resterà suo amico fino alla morte E che sposerà sua sorella minore Isabelle Fournier Da questa profonda amicizia tra Rivière e Fournier Scaturisce una grande, lunga e anche molto illuminata corrispondenza Che inizia nel 1905 e finisce praticamente con la morte dello scrittore francese nel 1914 E che verrà pubblicata solo dopo la precoce morte di Fournier Perché stiamo parlando di un grande scomparso a soli 27 anni Senti, 1905 incontra l'unico grande amore della sua vita Una bella ragazza Yvonne, Quivrecourt E i due si conoscono sulla Sena, sui moli della Sena Durante una passeggiata, beh è bellissimo La donna diventa poi la musa ispiratrice della sua opera che realmente è compiuta Trasfigurata nel personaggio femminile Yvonne rimane Yvonne Yvonne rimane Yvonne E Galet diventa il cognome ed è la protagonista del suo romanzo Dante e Beatrice, un incontro folgorante Anni dopo nel 1913, molto probabilmente per caso, lo scrittore incontra nuovamente Yvonne Però nel frattempo, come spesso accade, l'amore Lei si è sposata ed è madre di due bambini E in lui cresce un fortissimo turbamento Le poesie scritte durante questi anni e pubblicate solo dopo la sua scomparsa Mostrano quanto lui abbia sofferto per questa cosa 1908 presta servizio militare al rientro a Parigi Trova un posto da redattore al Paris Journal Sono anni di grande fervore letterario-culturale Qui incontra André Gide, Paul Claudel Che sappiamo saranno straordinari protagonisti della scena culturale francese Tuttavia questa esperienza al giornale parigino non dura granché Perché lui ama dedicarsi alla politica Che è una delle sue passioni da quando era giovane Diventa segretario del politico Casimir Perriere Contemporaneamente comincia a scrivere il suo capolavoro Il romanzo Le Grand Molne Fortemente ispirato agli eventi che hanno riguardato Fournier Fin dalla infanzia e attraverso la sua vita È una vicenda molto semplice Sì, due grandi amici Un grande primo amore non corrisposto Appunto per la bellissima Yvonne E attorno a questa trama Che è raccontata con grandissima maestria Si compone la parabola poetica del passaggio Dall'infanzia all'adolescenza In un fittissimo intrecciarsi di realtà e di sogno Ci sono delle sottilissime impressioni psicologiche E c'è un tenero, a volte anche allucinato, lighismo È una fiaba poetica È un'elegia simbolista È un romanzo di formazione Il Grand Molne è tante cose È soprattutto una parabola sui sentimenti puri E sull'ansia di evasione È un romanzo su qualcosa che deve ancora accadere Eppure c'è molta nostalgia Sì, è già colorato di nostalgia E lui avrebbe detto L'eroe del mio libro è un uomo la cui infanzia fu troppo bella Durante tutta l'adolescenza se la trascina dietro Di tanto in tanto pare che tutto quel paradiso immaginario Che fu il mondo della sua infanzia Stia per sbocciare al culmine delle sue avventure Ma sa già che questo paradiso non può esistere di nuovo Ed è questa una delle corrispondenze appunto All'amico fraterno Riviera La testata Nouvelle Revue Française Si appassiona al suo romanzo Decide di pubblicarlo come un feuilleton Un po' alla volta, a puntate E verso la fine del 1913 Il romanzo, nella sua interezza Viene pubblicato dall'editore Emile Paul E subito forte di un buon successo di pubblico Ottime critiche ricevute Viene selezionato per partecipare al prestigiosissimo concorso Il premio Goncourt L'anno dopo cerca di dedicarsi anche al teatro E inizia a lavorare alla pièce La maison dans la forêt Al contempo comincia a stendere Quello che avrebbe dovuto essere il suo secondo romanzo E che, ahimè, come il lavoro teatrale Resterà incompiuto Perché? Perché allo scoppio della guerra Della grande guerra, 1914 Lui decide di arruolarsi come tenente della riserva E si trova nel punto più delicato E drammatico del fronte Perché finisce a Verdun A Les Aparges Siamo sulla Mosa Probabilmente Alain Fournier trova la morte Proprio qui, il 22 settembre del 1914 Durante uno dei primissimi scontri del conflitto Il suo corpo però non verrà identificato Pensate, fino al 1991 Quando lo ritrovano in una fossa comune tedesca Pensa che progressi però Mamma mia E la località si trova su una strada Che unisce Verdun e a Tonchattel Fournier diceva Il mio credo in arte è l'infanzia Arrivare a renderla senza alcuna puerilità Con la sua profondità che giunge ai misteri Il mio libro futuro sarà forse un perpetuo Va e vieni insensibile dal sogno alla realtà Ai noi nessuno ha potuto mai arrivare a leggerlo Prima di passare ai nostri riti Stasera la prima edizione del premio Salvo d'acquisto Il grande vicebrigadiere Che il 23 settembre del 1943 Sacrificò la sua vita Per salvare 22 civili innocenti Da un plotone di esecuzione nazifascista Ci sarà il fratello Alessandro d'acquisto E ci saranno i premiati Allora c'è una bambina che ha donato i regali E i soldi ricevuti Dalla prima comunione alla Caritas E poi c'è il dottor Lorenzo Cotroneo Che è fratello dell'immenso Franco Cotroneo Ed è la zia Margherita e di Paolo Cotroneo Ed è lo zio di Alessandro Cotroneo Grande farmacista Che si impegna da anni A favore della comunità locale Siamo a Bisignano in Calabria Organizza eventi culturali E interventi di riqualificazione Del patrimonio urbano Il premio è nato dalla volontà Di riconoscere e premiare Quelle persone che si distinguono Per gesti di generosità E responsabilità sociale È un tributo alla figura di un eroe Che rimane un faro di umanità E sacrificio per tutti gli italiani Quindi al museo del saxofono di Maccarese Grande tenuta di Maccarese Roma Questo premio salvo d'acquisto Perché la generosità È un valore da ricordare ogni giorno E se esiste una famiglia generosa È la famiglia Cotroneo Evviva Evviva lo zio Lorenzo Alle nostre spalle Gallina spentissima Grazie per i regali Perché secondo te? Perché secondo me È questa bacchetta No È il Timbota che ce lo dice Bonanotte Sunador Che vuol dire Buonanotte suonatori Ecco Non ci mandano più niente No eh No buonanotte suonatori vuol dire Basta è finita Sì Ma neanche quelli proprio più È proprio finita Perché noi abbiamo uno zoccolo duro No Anche quello si è sciolto Non c'è più nessuno Non ci guarda più nessuno Neanche averigo No infatti adesso io lancio Non lo vedo più Amerigo Il sasso nello stagno Che fine ha fatto Amerigo? È morto No No sta bene È qua guarda che sorriso Guarda che sorriso Poi è bellissimo È bello È proprio bello È proprio bello Sì Io a volte è talmente bello Quello che lo confondo col Varano Tu sai che Tu sai che oggi e domani Compleanno tondo di due giganti Della nostra musica Della cultura Di tutto Che sono anche stati una coppia Perché oggi facciamo gli auguri A Ornella Vanoni E a Gino Paoli E domani a Gino Paoli Li amo Fantastico sta cosa La simpatia Bello però eh 22-23 Io ho la foto con Ornella E con Gino No e con la Caselli Vedi Mentre guido il pandino Ma diamo un suggerimento A Urbino Fino al 6 ottobre Una mostra da non perdere Su uno dei giganti Della storia dell'arte italiana Federico Barocci Barocci Tu sei stato a vederla Non stato a vederla Io non ancora Io gli ho detto Leo andiamo insieme Sì No Ci è andato con qualcun altro Anzi con qualcun'altra Ecco Gentile Leonardo Bell'amico Ma c'è ancora tempo Fino al 6 ottobre Si vergogna andare alle mostre con me No Fischietta Dici no non lo conosco Vabbè E' andata così No no Anzi è importante Andare da soli No Chi è Federico Barocci Uno dei grandi artisti del manierismo Erede di Correggio Grande disegnatore Rimase quasi tutta la vita a Urbino E nonostante questo Era richiestissimo Le sue opere Si trovano a Roma A Firenze A Perugia Andate a visitare questa mostra Anche perché è il segnale Di una città Che investe Particolarmente Il Palazzo Ducale E la nuova direzione Il Palazzo Ducale di Urbino Investe Sui tesori Del patrimonio Da valorizzare Non c'è la mostra Che ne so Di Dalì La 399esima mostra Di Dalì È un messaggio È un messaggio Che molti Molti amministratori Senza nulla togliere Dalì No Ecco Ma Dalì andiamo a vedere Piero era anche amico di Dalì No io ero amico Del più grande saltatore arabo Che si chiamava Dalì Alà Infatti vedete i baffi di Piero Sono Una volta erano più lunghi No E se li teneva come No I baffi di Piero sono finti Sono quelli di Dalì Cioè lui me li ha lasciati in eredità Infatti hanno anche uno strano odore E io li attacco E non c'è però a Mandalì No Quindi direi Che oggi definitivamente Chi cambia canale È un baffo di Dalì Sì E così Noi ci congediamo Con la gallina spenta E ci rivediamo Tomorrow Domani Anche se non c'è più Tomorrow E a Mandalì Eh certo Non c'è più nessuno Che ci guarda lo sai No eh Nessuno È una finta È finita Non so neanche se andiamo in onda No non andiamo in onda Tanto tu non lo sai Perché non te ne prendi È una terapia tu dici Va bene Io ho la mia bacchetta È come Jack Nicholson A domani A domani Al manacco di bellezza A cura di Piero Maranghi E Leonardo Piccinini Con Lucia Simioni Stefano Puppini Jacopo Milardotti Paolo Faroni Riccardo Cassani Greta Torresi Samantha Chiodini Realizzato da Amerigo Daveri Valentino Puppini Luigi Consolandi Stefania Margheritti Alessandro Puppini Prodotto da Piero Maranghi Una produzione Classica HD Sky Canale 136 In collaborazione Con Intesa San Paolo Alfredo Maranghi Abonos Grazie a tutti.